Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. C'è un'ufficialità di mercato, una novità dell'ultima ora, in realtà se ne parla già da tempo, però è arrivata proprio ora l'ufficialità perché Di Lorenzo passerà la prossima stagione a Napoli. È stato acquistato da Napoli per 9 milioni e mezzo, 10 milioni, le cifre più o meno sono quelle, la gente ha già confermato che addirittura domani sarà fare visite americhe a Napoli, quindi comunque è già una cosa certa. È un giocatore di livello, è sicuramente un giocatore fra secondo me i migliori terzini, poi comunque nei prossimi giorni è uscito prima il video sui migliori portieri, quindi uscirà quello di difensore centrale domani, dopo domani dei terzini, quindi comunque saprete effettivamente la mia fra qualche giorno, però è un terzino che secondo me quest'anno ha dimostrato il suo livello. Sicuramente nella top 10 dei terzini appunto per quel che riguarda la stagione. È come detto un terzino molto buono, è un terzino di spinta, è un terzino che comunque ha giocato anche nella difesa 5, nel centrocampo a 5, ha giocato nella difesa 4, quindi comunque è anche abbastanza duttile da quel punto di vista. Ha dimostrato con i suoi 5 gol e 3 assist in 37 presenze di essere un giocatore che sa dare il suo contributo in fase offensiva, sono sicuro che lo farà anche al Napoli e comunque secondo me è un acquisto veramente importante, un acquisto da 7,5 almeno visto anche un colpo da 7,5, visto anche che l'hai pagato relativamente poco. Perché come detto sì che il Napoli, l'Empoli ovviamente andando in Serie B ha anche meno potere diciamo da quel punto di vista, però è anche vero che è confermato, nonostante fosse una piccola, uno dei migliori terzini come detto della Serie A, quindi veramente tanta tanta roba. Ora bisognerà vedere un po' come il Napoli lo gestirà, nel senso che chiaramente su quella fascia c'ha già Isai, c'ha già Malquit e ora arriva anche Di Lorenzo perché si parla ovviamente della fascia a destra. Io credo sinceramente che quello ad uscire, perché ovviamente uno fra Malquit e Isai deve uscire, sarà proprio Isai, nel senso che sì, era uno dei pupilli di Sarri, infatti si parla anche di un possibile avvicinamento di Isai alla Juve, spero di no, nel caso in cui Sarri diventa il natore della Juventus, però credo che fra i due sicuramente quello sarà la scelta per chi cedere, ecco. Nel senso che comunque abbiamo visto anche quest'anno che Malquit ha preso molto più posto su Isai e è spesso stato titolare, soprattutto nella seconda parte di stagione proprio di scapito dell'albanese, quindi comunque credo che fra i due verrà ceduto lui. Di Lorenzo secondo me può giocarsi le sue carte, siamo chiari da terzino titolare, è comunque un giocatore italiano, un giocatore che ha molto potenzialità di crescita, così come Malquit che è anche lui molto giovane, quindi sarà una bella sfida, un balottaggio costante secondo me, però veramente bel colpo da parte del Napoli, un colpo giusto, un colpo mirato, un colpo che ci può assolutamente stare, soprattutto come detto ha quelle cifre, secondo me è veramente tanta tanta roba, non si sa ancora quanto prenderà, ancora ovviamente i dettagli non sono precisi, però si sa la cifra, si sa che domani sarà a fare le visite America a Napoli, quindi veramente bravo Napoli che si è mosso subito per il giocatore perché si è parlato anche di un interessamento addirittura ieri in serata dell'Atletico Madrid che ha provato ad inserirsi in una trattativa, però oramai era già uno stato molto molto avanzato e di conseguenza non sono riusciti a fare lo sgambetto diciamo al Napoli. Detto questo ragazzi, io vi invito a mettere mi piace se volete altre notizie nel mercato, vi invito a scrivermi nei commenti un po' la vostra su questo colpo del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, nuovo giocatore del Napoli e vi invito al fine a riscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, attualità calcistica, fantacalcio, qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio. Per tutto questo io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.